segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora la sta ascoltando furio colombo grandissimo maestro di giornalismo che spesso mi aiuta con le sue analisi impeccabili buongiorno furio ben trovato grazie di essere con noi buongiorno mirta grazie sei preoccupato furio di questi due presidenti che vengono descritti come molto divisivi anche se molto diversi cosa casini ha detto in un'intervista perché la russia un uomo di esperienza parlamentare ed è un uomo che ha buoni rapporti anche con diciamo molte molte persone nella nell'opposizione insomma e invece fontana è sembrato davvero un scelto da da salvini come una scelta davvero tanto divisiva comprese per le sue posizioni pro putin diciamo così no io più che essere più che essere sorpreso da queste due nomine sono da una parte di come cittadino italiano umiliato l'idea che ci debbano essere due personaggi così a rappresentarci tutti non alcuni di loro non alcuni che la pensano in un modo e altri che vengono lasciati liberi e rispettati per pensarla completamente in un altro modo ma per con l'idea che essi rappresentino tutti siano tutti siano coloro che rappresentano l'italia questo mi pare mi pare folle e anche irrispettoso nei confronti della maggior parte della maggior parte dei cittadini per quanto riguarda